Salme in chiesa anche a Verbagna. Come in decine di altre città italiane, anche qui si è verificato il problema di dover collocare le bare in attesa della cremazione. Troppi defunti che arrivano dalla provincia, dove anche il crematorio di Domodossola sta lavorando a pieno ritmo, ma anche da fuori VCO. Alcuni feretri, una decina, sono stati collocati nella chiesa di San Giuseppe, molto cara ai pallanzesi, in piazza Giovanni XXIII. Ci sembrava il luogo più adeguato e rispettoso per conservare le salme per qualche giorno in attesa della cremazione, spiega l'assessore Nicolò Scalfi. E ringrazio Don Roberto per averci concesso l'utilizzo della chiesa. Il forno crematorio, evidenzia Scalfi, sta lavorando continuamente. Ringrazio gli operai che stanno facendo gli straordinari, lavorando anche di sabato. Purtroppo è una situazione emergenziale in tutta Italia e stiamo facendo il possibile per gestirla al meglio, tenendo conto che dobbiamo anche garantire le distanze di sicurezza per i lavoratori. Il lavoro del crematorio al cimitero di Pallanza è più che raddoppiato nelle ultime settimane. Lunedì è stato fermato per un giorno per manutenzione e per un controllo che si è concluso con esito positivo. Grazie a tutti.